Senza la capina l'unico problema è che non si può farsi una doccia, infatti ora sto vedendo se riesco a scroccare da qualche parte una doccia, come avevo già scritto nel blog all'inizio mi sono appisolato un'ora e mezzo, dove ho giocato a becchiamo un paio d'ora, una serata un po' sfortunata comunque, nel gioco ma che compenso una meravigliosa notte.